musica 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 ben ragazzi qui è blu scribe e ben ritrovati nel mio canale sono qui oggi signori finalmente all'uscita del gioco assieme a dread io mi faccio di bella e siamo io come avete visto il video di facebook ragazzi ci siamo sfidati eravamo a londra e ci siamo sfidati ragazzi e dobbiamo farci il culo io ti farò il culo hai capito merda eravamo a londra è bello da dire eravamo a londra hai capito merda hai capito merda ragazzi io ho appena installato il gioco da dire non è una scusante no no è vero abbiamo fatto un piccolo tutorial ma ci serve l'esperienza su fc è dell'anno scorso che non giochi vero io ho il personaggio peloso c'ho coda fratello orso poi se vinci dovresti fare anche la risata dei griffin sei pronto bomber via figa prontissimi io 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 che fai il camper oh oh c'è oh c'è ma oddio è già morto il mio ha preso una stecca è morto questo per strada sulla tuscolana more vabbè sì vabbè sì vabbè sì ma perchè i tuoi caricano così tanto? no devi fare tipo a tempo bam rissa la strada si questo qua non è ufc è tipo rissa la strada raga mamma mia che uppercut signori io già ho la testa rossa raga guarda il corpo del mio personaggio sembrava un pene con la testa rossa ahahah ora ti becco un po' il corpo oddio che cazzo sulle palle ahahahahah aia a merda guarda come camper e che grazie al cazzo no merda ho sbagliato il tasto per due volte l'hai sbagliato io c'ho un problema su ahahahahahahah fai così bomber oh mio oddio oh merda vieni a fare il coglione no 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 lontanati lontanati BOOM oddio si è morto no 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 beccalo 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 no 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 vado no c'ho la segna è stata missione no ti prego oh sì 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 BOOM BOOM no non vale lo stavo a provare oddio aspetta lo stavo a provare sono qui daun 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 BOOM che c'è? ho capito ma non si stanca mai il duo ma hai fatto decetamina come è possibile? eh ti ho detto cosa devi fare bomber devi trare i pugni a tempo si ho capito però tieni il tempo BAM oh merda oh bello questo questo l'ha incassato un tot eh bomber no beccalo di merda mi sei passato attraverso ho sforbiciato ragazzi è morto è morto è morto oh cazzo madonna fortuna mi ci hanno fatto indietro vieni qua merda 25 secondi rimane BAM burro con due oh oh mio dio come hai fatto? non te l'ho fatto non lo so non te lo so spiegà non te lo so spiegà no no quattro secondi suona gong di merda best cioè best best giocata in the world comunque mamma mia oh mio dio cioè no vabbè non lo so lo so cioè comunque so come si sta madonna questa qua però l'hai sentita bomber figa guarda lo sguardo morto nel BAM cioè me l'hai fatto mentre ti ho dato un cazzotto in faccia ma il tuo questo qua è quello tipo brasiliano campione del universo l'hai mai visto quel video dove si spezza la tv in due? si madonna che schifo dai gli è molto male il pene eh mi è venuto male la tv anche mai il pene? oh oh vabbè parate però coglione vai ancora non lo so come si fa no no merda 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 dai adesso mi schifo tutto madonna mi manca il fiato troppo miscio no 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 non ho fame take down no 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 madonna si resiste no no dai liberatì liberati no 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 non fa la sottomissione plantoni ooooh si himno male che non hai tirati i pugni ci alzati bravissimo anderson no fuck evita tutto schiva tutto pazzesco bello cazzotto in faccia guardia vai che sei mai che sei sto cazzo no troppo tardi best incontri da war signori bam bam ma io mi ricordo l'ultimo video che ho fatto su fc l'ho fatto coronio e mi aveva pestato a sangue il mio personaggio era morto porco due come l'hai sentita sio oh ma che simia mori no ho capito ma tu è immortale vieni merda eh anche questa però è da mortalità ma perchè sei girar mio eh vabbè si adesso ti pianto il tallone nel collo si piantano zio te lo pianto tutto bomber merda non c'ho più il braccio cazzo bruttissima io ho le braccia viola tutte le volte che mi sono parato si no cazzo troppo lento ma che sono un coglione dai che è bello bellissimo merda no no ma non c'è tipo l'opzione prendi le lame sei sempre attorno bello eh no è che sono tipo tutto viola quindi cioè devo fare un minuto a camperà madonna santa qua basta una mossa ragazzi ma merda guarda come sei risso sulla strada madonna guarda come si parla dread e basta bello ci siamo evitati a vicenda in volo merda son morto son morto son morto son morto son morto son morto cazzo è lì che mi devi attaccare vabbè che eri morto anche tu oh che cosa ha fatto non lo so oh mi son distratto una cifra bomber mamma mia sto incontro qua stanno andando a finire in cucina a giocare dalla tensione che tensione guarda il mio vio c'ho la sopraccina spaccata guarda che è proprio sono proprio buono ma è inguardabile sembra una scimmia spero che lo paghi mamma mia boom madonna come sei mosso la bava cioè hai visto i muscoli del collo no della guancia guarda boom mamma ma ah la fregna ah la fregna ah guarda c'è un tatuaggio sulla spalla da buttana ahah ciao ah che non schippa dread ahahah questo è l'incontro definitivo match definitivo c'ho le braccia viola oh 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 merda lo dicevo dai sei desaccorto zii adesso ti tiro uno di quegli uppercut bomber che te li ricordi si vabbè oddio non ho tirato l'uppercut ho tirato noo è morto sei morto muori dread muori dread e vabbè dai ma è criminale sta cosa rendiamo è criminale rendiamo ho 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 capito mancava solo che mi hai sparato hai visto mamma mia che match è morto guarda lo sguardo c'è lo sguardo tipo perso devi farlo giù mettere il bianco e nero e mettere il bianco e nero e mettere il bianco e nero ahahah damn ahahah guarda il gesù cristo allora signori se volete la rivincita against dread fatemi sapere con un bel like e un commento settimana prossima però sfiderò un altro youtuber mi raccomando seguitemi su facebook e iscrivetevi al canale anche di dread che trovate in descrizione seguitemi su snapchat mattepicarazzi ciao esatto seguiteci tutti e due su snapchat mattepicarazzi ci chiamiamo nello stesso modo pensa allora su snapchat su snapchat io ho fatto voglio fare un contest praticamente vince chi visualizza più post pensate vince niente comunque ragazzi l'ufc uno contro uno è pazzesco eh io mi diverso un casino davvero top raga andato è top raga figa va bene signori io vi sentito un ringrazio grazie a tutti per subito lasciate un mi piace, commentate e seguitemi su snapchat, su instagram, su twitter, su tumblr, su facebook, su thread su dred su dred è tutto bella bella pachyslaki the Grazie a tutti.